Si scrive Natale a Napoli, si legge teatro, musica, danza, eventi per bambini e visite guidate che animeranno la città dall'8 dicembre al 15 gennaio. Il programma delle iniziative presentate al Comune di Napoli dal Sindaco dei Magistris, con gli assessori Antonella Di Nocera e Marco Esposito, punta a rendervivi alcuni luoghi meno frequentati, portando concerti in galleria Principe di Napoli e nella città estesa e con reading nelle biblioteche di quartiere. Eventi, mostre e laboratori sono in programma anche al PAN e alla Casina Pompeiana, nelle chiese e nei principali monumenti dei decumani. Sono molto contento non solo del mio primo Natale da Sindaco ma anche dalle iniziative che abbiamo messo in campo, coinvolgendo le istituzioni, tutte, dalle università, ai conservatori, grandi iniziative a Napoli, in tutta la città, questo è un altro motivo di orgoglio, non solo nel centro storico della nostra città, luci, arte, spettacolo, musica, all'insegno di una città viva, che sia sempre più viva e quindi più sicura, con spazi pubblici riempiti dai cittadini. Al Maschio Angioino torna l'atteso appuntamento con la tombola vivente allestita nel cortile nel giorno dell'Epifania, mentre le chiese di Piazza Mercato si apriranno ai core di giovani universitari e gospel. Ricco il programma di visite guidate e teatralizzate, il Conservatorio di San Pietro a Maiella aprirà le sue porte alla cittadinanza con sette concerti, così come la Chiesa della Pietrasanta, la Stazione Marittima e perfino le nuove stazioni Metro di Piazza Borsa e Piazza Van Vitelli per la rassegna Musica e Metro. Con Metro Napoli avremo dei appuntamenti nelle metropolitane di musica che cominceranno proprio questo fine settimana, così come c'è una sinergia con la Curia per l'apertura di molte chiese per i concerti, così come esiste una forte sinergia con le sovrintendenze che pure hanno ospitato iniziative e che sono presenti in questo calendario. La novità è che quest'anno ce ne sono ben 56 di mercatini natalizi un po' in tutta la città, non era mai stata fatta una cosa simile, tutti con bando, tutti regolari, oltre 1500 operatori. La città è molto più viva, la città torna diciamo al Natale, per questo Natale a Napoli. La città ricorderà infine il grande maestro Renato Carosoni a dieci anni dalla scomparsa, con la mostra che il Comune gli dedica al Maschio Angioino e la serata in sua memoria al Teatro Augusteo il 14 dicembre.